Un proverbio dice che non si può impedire agli uccelli della tristezza di volare sulle nostre teste, però si può impedire che vi facciano il nido. Mi scusi ma non sono in vena per queste cose. Mi voleva vedere? Forse ho trovato un modo per poter arrivare a Cheng. La sto ascoltando. Cindy Yong è cameriera al mandarin. Dicono che abbia visto la sua amica uccidere François Chiaosu. Che rapporto ha con Cheng? Gli esseri umani alla fine sono tutti estremamente prevedibili. E in quanto esseri umani, tutti gli uomini hanno debolezze e Cheng non fa eccezione e è molto innamorato di lei. Vuol dire che Cheng ha un cuore? So come metterla in contatto con Cindy senza destare sospetti. Molto bene.